Nel corso della mia collaborazione con il Gillice Innovation Hub Lombardia, ho avuto modo di effettuare l'assessment Industria 4.0 presso un discreto numero di aziende, soprattutto PMI, e la cosa che più mi ha colpito è la loro voglia di aprirsi alle nuove tecnologie, a testimonianza di un nuovo approccio culturale. Aziende fiere della loro origine e del loro passato, e con la testa già orientata e proiettata verso nuovi possibili traguardi abilitati dalle nuove tecnologie. Il mio percepito è che la consapevolezza delle opportunità derivanti dalla trasformazione digitale c'è ed è ben presente. Purtroppo questa consapevolezza è prenata dalla scarsa disponibilità di risorse, sia economiche che di tempo, e dalla scarsa conoscenza delle possibili soluzioni tecniche e degli incentivi economici disponibili. Tutti elementi sui quali lavorare, ai quali ne aggiungerei un altro, lavorare sulle filiere, aiutare le aziende, soprattutto le PMI, a favorire una maggiore integrazione a monte e a valle, per creare una value chain 4.0.